Il comandante del drappello monta un sauro, dietro di lui tre cavalli bai, tre grigi, altri tre bai e altri tre grigi. Queste sono la composizione del drappello dei carabinieri a cavallo che poi rivedremo domani pomeriggio prima dell'inizio del corteo storico. Ancora sono davanti all'altezza del palazzo pubblico, mentre sentiamo i bambini che sono ospiti nel palco. Ecco c'è il comandante che dà l'ordine di schierarsi per il saluto, infatti vedete stanno scorrendo i cavalli che si allineano ed ecco un bel momento. E' sempre molto emozionante, molto bello di vedere questo gruppo che con la spada salutano il palazzo pubblico per cui salutano Siena, salutano il palio. Ed ecco si ricompone il gruppo in quattro file con in testa il comandante che al passo va verso il casato. Prima erano ospiti nella caserma di Santa Chiara nel Nicchio, ora sono stati spostati su nella caserma fuori Porta Camollia, per cui fanno anche il percorso per arrivare in Piazza del Campo. Eccoli che stanno ricevendo il saluto con l'applauso da parte delle persone sui palchi, sulle terrazze, sulle finestre. Oggi tutte le finestre sono aperte, tutte con i drappi che danno questo senso di festa. Ecco nuovamente un saluto alle autorità sul palco, il sindaco e le altre autorità, questore prefetto. Grande applauso. Vedete dalle immagini qual è il significato bello di questi momenti dove tutto poi si riconduce al palio. Alla città che vive questa festa due volte all'anno, che riesce a gestirla, a portarla avanti con grande attenzione e con tutte le componenti. E la presenza del gruppo dei cammini di cavallo è una delle componenti che fanno parte del palio di Siena. Ed eccoli qui che sono all'altezza di Ponte Gaia e il comandante dà l'ordine di passare dal trotto a un leggero galoppo per portarsi al San Martino, percorrendo nuovamente la spianata dal San Martino al Casato e poi al Casato con le spade sguainate l'ordine della carica. Eccoli che si avvicinano a San Martino mentre continua questo tributo, questa riconoscenza di applausi, di saluti al drappello dei carabinieri. Eccoli ancora davanti allo slargo di San Martino. Bellissimi sono le divise dei carabinieri, bellissimi i copricapo e poi tutti i finimenti dalle testiere alle selle, alle sottoselle che ormai ci hanno abituato a questo spettacolo molto bello e di grande storicità, di grande classe. Ecco, stanno rompendo il galoppo, vediamo che si stanno scomponendo, vediamo c'è un grigio, un cavallo grigio che è andato vicino, ecco la carica, la carica con un boato enorme da parte del pubblico presente, una bellissima galoppata verso l'uscita di San Martino con in testa il comandante e lentamente sfilano.